Un ragazzo squisito, un ragazzo impegnato nello sport, nella scuola, per cui siamo rimasti esterefatti. Da genitore credo che l'aspetto più importante in questo momento è pensare alla famiglia, ai genitori. E la vicinanza assoluta, in silenzio, credo sia il momento migliore per ricordare questo ragazzo. Un ragazzo speciale, per cui rimane il vuoto veramente all'interno di tutta la comunità, di questa scomparsa di un ragazzo veramente speciale, impegnato nello sport, a livello professionistico e soprattutto nella scuola.